L'attesa è finita, il simbolo della città finalmente liberato dalle impalcature. Eracleo, l'unica statua bronza in Italia risalente al quinto secolo esposta all'aria aperta, torna ad essere visibile a tutti dopo il restauro. È tornato il nostro papà, è la gioia di tutti i bambini, Eracleo per noi è il simbolo di Barletta, è una gioia immensa per me, rivederlo come è. I risultati per quello che hanno fatto sembrano eccellenti, perché era prevista solo pulizia e un monitoraggio della statua in tutto questo periodo. Contenti? Contentissimi, Barletta e Avest. Da sempre posizionati in uno degli angoli più trafficati del centro di Barletta, negli anni è stata interessata da depositi di sporco e formazione di corrosione. Era necessaria un'operazione di macchiage, l'ultima risaliva al 1981, dall'ora Eracleo, che secondo alcuni studi raffigura l'imperatore romano d'Oriente Teodosio II, era stato un po' trascurato, si è proceduto ad un intervento di manutenzione programmata, verifica e controllo della struttura interna. È stata effettuata una campagna diagnostica, di molteplici analisi per verificare sia lo stato di conservazione delle superfici, sia della struttura portante interna. e devo dire che ogni analisi ha dato riscontro decisamente positivo. Poi praticamente a seguito di ciò sono state effettuate la pulitura delle superfici e la nuova protezione della stessa.